Buonasera a tutti e benvenuti alla Next Session di venerdì 3 marzo. Sono 23.16 e tra 14 minuti sapremo se riusciremo a tornare qui sotto oppure se bisogna fare altri tipi di ragionamenti. Facciamo una promessa però. Avete visto la precedente analisi? Perché se non avete visto la precedente analisi, mi spiace ma non sapete di che cosa sto parlando. Conviene che eventualmente sì ascoltiate quello che sto per dirvi, ma ritorniate ad ascoltare la precedente analisi. Anche perché le analisi più le ascoltate e più farete veloci a diventare indipendenti. Questo è un metodo statistico-matematico non discrezionale. Perché? Statistico-matematico perché per calcolare i tempi utilizzo una tabella statistica. Non si esce dalla stavella se non con i raccordi. Esistono i raccordi e i raccordi inversi perché? Eh, per fregarci. Altrimenti saremmo stramiliardari, non miliardari. Purtroppo il raccordo deve esserci, l'errore ci deve essere. E non l'errore, la finta, scusate, ci deve essere. E non discrezionale significa che non è che facciamo trading perché mi sveglio la mattina, sono felice e vado long. Ma perché si creano determinati vincoli rispetto alla statistica di durata di un ciclo su cui posso ragionalmente operare in una direzione piuttosto che nell'altra. La cosa bella è che non c'è nulla di, non so come dire, quando si entra nel, quando si inizia a studiare e si comprendono determinate meccaniche, non c'è più nulla di astruso. Ragionando insieme, più si rivedono insieme le cose e più si capiscono tante cose, appunto. E soprattutto poi si può imparare prima come evitare di farsi male. Una scalpata con stop stretti ci ha evitato di finire qui sotto. Perché se non si è venduto come minimo attorno a questo massimo ha iniziato a scendere, è stata chiusa, scalpata. E se andate ad ascoltare le precedenti analisi il rischio che tutto andasse giù era stato ben definito. Perché se andate a prendervi il grafico andate a fare un esperimento, andate a vedere le precedenti analisi, riascoltatele, più le ascolterete e più capirete tante cose. Come mai avevo segnato qua secondo T e non l'ho mai tolto? Come mai avevo segnato qua quest'altra cosa qua? Come mai segnalavo che mi sarei solo mosso con i vincoli e con i swing? A meno di non fare scalpate, roba breve con stop stretti. Perché avevo paura che succedesse questo? Perché il tempo si stava fiorendo per arrivare oltre l'undicesimo giorno di questo T settimanale. Eccoci qua. Che strano, tutto torna, eh? E se andate ad ascoltare le precedenti analisi fate attenzione bene a che cosa dicevo del T più due mensile inverso. Ok? Allora, ritorniamo noi però. Che cosa facciamo adesso? Eh, se non torniamo qui sotto, sotto i 21.968, proprio con questa candela qua che termina tra dieci minuti, quasi undici e qui abbiamo che cosa? O abbiamo un ciclomotore e non ci finiremo e rimbalzeremo su. Ecco che cosa fa il ciclomotore. Anche perché se guardiamo il grafico a candele giornaliere siamo a che candela di questo terzo ciclo T settimanale? Siamo la sesta, quindi abbiamo più che la condizione necessaria e sufficiente per rimbalzare. Se non ragioniamo di ciclomotore, che però ci sta, per cui è giusto dare quelle che sono le possibilità a livello di analisi, non a livello di trading. Ci sono swing, ci sono vincoli, c'è qualche cosa su questo grafico che mi farà operare questa sera? Ma assolutamente non c'è niente. Abbiamo una sequela infinita di candele, siamo a 27 candele inside dentro questa, dentro quest'unica candela qua quella di venerdì 3 alle 2.30 ma voi pensate che io mi azzardo a fare trading? O a fare qualche cosa con tutte inside? Siamo matti. Facciamo passare la nottata, però raccontiamo che cosa può succedere. Se questo è un ciclomotore abbiamo la facoltà di rimbalzare. Se non lo sarà nonostante qui ci abbiano dato tutti gli spunti per pensare che questo fosse il sesto T-3 e che tra l'altro non ci hanno dato nessuno spunto per determinate altre cose ma questo è un altro è un altro paio di maniche qui siamo arrivati a 40 barre e qui possono andare avanti tra l'altro sabato proprio che è la giornata peggiore per fare trading su bitcoin per altre tot candele per arrivare fino alle 11.30 di domani mattina senza fare niente rimbalzino laterale rimbalzino laterale eccetera eccetera perché se qui facciamo puff scomparire il sesto T-3 nonostante tutte le condizioni per far partire un sesto T-3 da lì eccetera eccetera e facciamo chiudere qui il quinto T-3 e da qui parte il sesto abbiamo una speranza di andare qui sotto comunque che si allunga oltre la 44esima barra che è l'attuale se lo facciamo partire da qui perché siamo a 27 non siamo più a 43 no 43 no dovrebbe essere a 44 aspetta un attimo no siamo a 43 ah no no anche la prossima abbiamo ancora scusate è giusto vero la candela del 23 quindi finisce più avanti abbiamo ancora la speranza di tornare sotto ancora per una candela oltre a questa io sono confuso ottimo sempre meglio rivedere le cose e non dare nulla per scontato viceversa se chiudiamo qui il quinto T-3 facciamo partire da qui sempre dallo stesso minimo il sesto abbiamo la possibilità di valutare ancora un'altra discesa entro appunto le 44 bar ovvero le 11 e mezza di domani in soldoni se non scendiamo con la prossima candela piena oltre a questa possiamo scendere con quella successiva ricordandoci sempre che da qui se abbiamo appunto soltanto il quinto T-3 non abbiamo fatto partire il sesto T-3 non avremo tutto il resto ok abbiamo tutte le candele per far partire un T-1 confusi non dovreste cosa significa? significa in soldoni che quinto T-3 sesto T-3 che non parte da solo parte con un altro T-1 altri tentativi per almeno altri due giorni di rimanere sopra questo minimo per poi finirci sotto non avete compreso perché ho parlato troppo rapidamente ok perfetto lasciate finire questo video riguardatelo domani mattina prima delle undici e mezza e avrete le tutte le idee più chiare penso vi ringrazio per il vostro tempo torno a vedere ancora un po' di animazione buona serata a tutti arrivederci